Uomini e donne, ex dama ha rivelato un retroscena su Maura e Gianluca dopo la fine del loro rapporto. Ha rivelato nel dettaglio che ci sarebbe una cosa che la donna non avrebbe detto. Intanto ricordiamo che ad aprile quando andava ancora in onda la trasmissione Maura e Gianluca si sono seduti al centro studio e in quel preciso momento lei aveva svelato che il cavaliere l'aveva colpita molto positivamente. Non solo, aveva fatto in modo che molte sue insicurezze fossero superate, derivate soprattutto dal matrimonio che poi è terminato con un divorzio. In quel giorno anche Gianluca aveva rivelato di essere stato molto preso da lei ma anche molto spaventato in quanto sperava che lei provasse i suoi stessi sentimenti. Quando si scelsero rispettivamente ci fu anche una tenera sorpresa. Maura ha chiesto a Gianluca di lasciare il programma insieme con una canzone dolcissima in sottofondo, Vivimi, di Laura Pausini. Subito dopo ci fu una grande pioggia di petali rossi e i due uscirono innamorati. Eppure, ora, dopo qualche mese, la loro fantastica storia d'amore si è già conclusa. Pamela Barretta, ex dama di Uomini e Donne, ha pubblicato da poco una storia su Instagram nella quale ha rivelato qualcosa di totalmente inaspettato. In precedenza si era già vociferato che la dama aveva in mente di andare a Temptation Island ma si tratta solo di voci. Non solo, è stato anche rivelato che la dama sarebbe interessata a tornare di nuovo a Uomini e Donne. In ogni caso, la Barretta ha aggiunto altri dettagli in merito e ha svelato, nell'ultima storia a Instagram, e che inizialmente ha fatto il provino come tronista, lo vogliamo dire? Ovviamente come tronista non l'hanno voluta. Lì puntava, poi aspettava Verissimo e tutto il resto. Insomma, parole molto forti alle quali potrebbe presto anche decidere di rispondere. Quel che è certo è che la dama e l'ex cavaliere Gianluca si sono poi definitivamente lasciati. La loro storia si è conclusa, ma non sono gli unici. Si è vociferato, qualche tempo fa, che un'altra coppia si sarebbe sfasciata per poi tornare inaspettatamente insieme, anche se non hanno mai confermato il tutto.